Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Tomb Raider Ho corretto le scritte, adesso non c'è più nulla dopo munizioni In pratica avevo messo le parentesi tonde Dopo munizioni, cioè avevo messo la parola munizioni tra le parentesi tonde A quanto pare era un problema per il font In ogni caso ci troviamo nel terzo livello Che si chiama la valle perdue Cioè la valle perduta Ok Qui è la porta del livello precedente, proseguiamo Questo è uno dei miei livelli preferiti Il che porta anche alla domanda del giorno In ogni caso Ci sono varie scuole di pensiero su come affrontare questo livello Cercherò di affrontarlo nella maniera più rapida possibile Perché è un livello veramente lungo E all'ara per favore non cadere Ok Ci troviamo davanti un'enorme cascata Wow Bellissima Fantastico Non credo che Lara possa colpire da qui i nemici E c'è già un lupo che si è risvegliato Ok Lara In fondo sono soltanto due lupi Pronta a fare un bel tuffo Che potrebbe essere anche la miniatura dell'episodio Spero di sì Mettiamoci belli pronti Ok Lara Di qui Bene Di qui Così E tuffosia Pum Non è stata una bella miniatura dell'episodio Vabbè In ogni caso Il lupo è lì pronto ad aspettarci Però se non sbaglio posso salire qui Andiamo a salire su Ah no non posso salire qui Ah mannaggia Qui posso salire? Sì che posso Sarà facilissimo Meno uno Meno due Ottimo Ok Per il momento niente di complesso Bene Non ci dovrebbero essere oggetti A parte altri nemici Infatti Ok Uff Ce ne sono altri? In queste zone Strane piccole No? Ok Pare di no Non fatemi prendere uno spavento Ok Qui ce ne dovrebbero essere altri Sono extra Però li voglio Sconfiggere lo stesso Ne sono tre Vabbè Il livello è appena iniziato Dai Ok Perfetto Sarebbe soltanto per sconfiggere i nemici extra Non dovrebbe esserci nient'altro infatti No è semplicemente Un covo di lupi Che abbiamo prontamente Sconfitto Bene Proseguiamo per di qua Se non conoscete il livello Ci si può perdere Però si può salire anche qui Perfetto In queste rocce bianche E queste rocce bianche ci porteranno alla valle perdue Ora Faccio un salvataggio Perché non so se posso affrontare i nemici Con le armi che ho Che possiede adesso Quindi Ok Siamoci pronti Perché c'è una bella sorpresa Una bella sorpresa Che nessuno si aspetta Ok Perfetto Non so quanti punti vita hanno Eccolo là E ne ha parecchi punti vita Perfetto Uno è andato Ce n'è un altro? Un altro pronto a essere sconfitto? Sì Eccolo là Beh ci dando abbastanza spazio eh Fiu Ragazzi abbiamo sconfitto I nostri primi veloci raptor Wow Beh Sì salverò di nuovo Perché adesso c'è un super nemico Sono un po' teso Perché non so se con le pistole ce la farò Per cui proseguirò E' arrivato il momento Musica Eccolo lì T-Rex Facciamo attenzione Saltiamo 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 Oh my god Lasciami in pace No Dannato T-Rex Ho fatto benissimo a salvare Ok Forza Ok devo Devo essere più veloce Forza Perfetto No Salta verso indietro Lara Salta indietro Lara Dai 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 che è quasi morto Ok Uff 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 Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta T-Rex sconfitto Grande E adesso salvo Fiu Bene Direi che ora possiamo esplorare in tutta tranquillità Qui non c'è nulla Peccato Ok Esploriamo per bene Perché qui intorno dovrebbero esserci dei segreti Questo livello ne ha parecchi Ok Vediamo di qua Aha Qui c'è una zona segreta Forse Si può saltire Salire No Volevo unire saltare Salire Saltire Vabbè Ok qui c'è una cascata Che sicuro porta un segreto Ok Eppure ero sicuro che qui c'era un segreto Ok Tengo pronte le pistole perché Potrebbero esserci le veloci rapture Ok c'è Una zona Una cascata Una cascata chiusa Ok C'è una zona Andiamo di qua Vediamo che c'è Un altro veloci rapture Forse Siamoci pronti Sì Forza Lara Veloci rapture Ok Veloci rapture sconfitto Per il momento i miei punti vita vanno bene Vediamo se c'è qualcos'altro qui Pare niente Niente No non ha senso Non ha senso che non c'è niente Questa grotta ci doveva essere qualcosa Non ci sei caduto sopra vero no? Mmm Ma pare non c'è niente veramente Ok Strano Molto strano Ricordavo male Vabbè Proseguo O sono cieco io Però qui non c'è niente Mmm Ok Eh la valle per due è bella grande Ehm Di qua che cosa c'è? Si cade What? E c'è una seconda cascata Perché abbiamo superato il ponte E qui c'è un'altra zona C'è qualcosa lo sento Si C'è un altro veloci rapture Vabbè dobbiamo affrontarlo Quindi Vai Ok Ok si è fatto sconfiggere senza problemi Bene Qui c'è qualcos'altro C'è una cascata Ok Si può salire Se non sbaglio so dove porta quella cascata Qui ci dovrebbe essere Un pezzo importante del gioco Per andare avanti nel livello Ok infatti Quindi era qui che si trovava Ricordavo che c'era una caverna Con un veloci rapture Che conteneva uno degli oggetti importanti Ingranaggio E infatti C'è anche la musichetta Si può raggiungere questa zona in due modi Io l'ho raggiunta in questo modo semplice Ed è secondo me anche più efficace Per sconfiggere il veroci rapture Perché altrimenti ce la saremmo dovuti trovare davanti Dopo aver nuotato E quindi si è Infatti se adesso nuotiamo Ci dovremmo ritrovare sempre nella valle perduta Però 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 Qui davanti alla cascata Ok Visto i progressi di gioco Io direi di fare Un salvataggio Sarà che finora Non ho trovato neanche un segreto Perché si trovano tutti qui E Oh Che sia questo il segreto Sì Grande Ok Credevo che questa rientranza Si trovava all'inizio del livello Invece no Si trovava qui verso il centro Ok Credo che qui Vicino a quel edificio Ci siano altri veroci rapture Però Ci dovrebbe essere Un altro segreto Vicino alla cascata Esatto Lì Ah sono vicini I due segreti Ok Qui se non sbaglio Si può salire Vai Lara Bene Infatti Una salita Ottimo Esatto Quella Questa cascata È percorribile Possiamo Spostarci verso destra E Lara non cadrà Perché questa cascata È fatta di Di poligoni Vabbè Strano ma vero E qui c'è un altro segreto Credo Sì Ok Quest'altro segreto Contiene altre munizioni Ottimo Eh servono Servono Ci serviranno Aha Ci sono altre munizioni Qui nascoste Doppie munizioni Ottimo Perfetto Ora sì che mi trovo Infatti dicevo Ma Io ricordavo Che C'erano appunto Due segreti vicini Nella roccia Ok Lara Perfetto Cadina Acqua E questa È la cascata Che porta Al veroci raptor E l'abbiamo già Fatta Visto che ho trovato I due segreti Posso fare un bel Salvataggio Sì Salverò molto Spesso E non me ne preoccupo Minimamente Andiamo verso la costruzione Qui ci dovrebbe essere Altri veloci raptor E infatti E infatti Belli pronti Ben due Ecco l'altro Che ci vuole raggiungere Ma non ce la farà E invece ce l'ha fatta Uff Giusto giusto Bene Veloci raptor Sconfitti Ok Qui ci sono altre due zone Vorrei prendere prima Il segreto Perché Soltanto i più hardwi Come me Hanno scoperto Che lì Sul tetto Si può salire Ok Solo che non ricordo Da dove si sale Da una di queste piattaforme Credo quella Sì Bene Bene Ok Qui devo stare attento Salto con presa Qui anche salto con presa Credo Sì Grande E questo salto È un po' più complesso Ok Visto che non ricordo Che tipo di salto Bisogna fare Salvataggio Spero non dia fastidio a molti E infatti Ho sbagliato Bom Ed è per questo Che le versioni per il pc Sono meglio Perché si salva Quando si vuole E ciao Insomma Sì Prima dei salti difficili Sono abituato a salvare E Considerando che devo registrare Anche Let's play Segreto Non posso fare 500 milioni di cose E siamo sul tetto Ho trovato Il grande Medipack Le munizioni Altre munizioni Dovrebbe esserci Inoltre Altre munizioni Qui Sì Insomma Un bel po' di munizioni Quindi Veramente il segreto Del tetto È veramente un segreto Per i più ardui E di qua si dovrebbe Poter scendere Senza problemi Credo Poi può Magari ricordo male No Qua si può scendere Ok Perfetto Bisogna che abbiamo Trovato il segreto Possiamo entrare Qui dentro In questo Edificio Qui non c'è nulla Qui nemmeno Ok Direi che forse Dobbiamo farci un bel tuffo E tuffosia Vediamo un po' Che cosa c'è qui Ci dovrebbe essere Proprio in acqua L'oggetto In questione Infatti C'è l'ingranaggio Bello nascosto E nient'altro E se che abbiamo trovato Un altro ingranaggio Ecco che Appare la super musica Super mega inquietante Ok Ok Ora Non ricordo Se appena Un nemico Dopo aver fatto Eventuali cose Quindi Mi limito A proseguire Bene Ora Non ricordo Se qui c'è un altro Veroci raptor Quindi faccio Un bel salvataggio Perché ho anche preso Il segreto Bene Diciamo che voglio sprecare Meno medipack possibili Perché ce ne serviranno Molti Quando affrontare Mi boss Ok No niente veloci raptor Ok Ponte Wow Ed eccoci sul ponte Fantastico Vero Saltiamo E Ci aggrappiamo E Saliamo Ah volevo fare la salita Bella Non importa E qui ci dovrebbe essere Un altro pezzo Di ingranaggio E se non sbaglio Con questo abbiamo concluso La parte Perdue Della valle Perdue Credo Qui si può scendere Senza problemi Si ci si fa Leggermente male Però Si può Proseguire Perché Perché è apparsa La musica Ok Non mi interessa Perché è apparsa La musica Io fuggo Non voglio affrontare Un altro t-rex Un altro t-rex Credo Secondo me perché C'è un bug Perché Ho caricato il gioco Wow Un bug perché Ho caricato il gioco Mi fa riapparire La super musica Che mi ha fatto Venire un colpo Devo essere sincero Eh Dannato gioco Vabbè Non ci dovrebbero essere altri nemici Li abbiamo sconfitti tutti Per sicurezza Però Io salgo sempre Sulle piattaforme Così i lupi Non mi vengono a prendere Ok No Niente di che Ora Velocemente Volevo entrare in acqua Perché Credo Che ci sia qualcosa Qui Forse Credevo Ci fosse qualcosa Qui Ma Forse mi sbaglio Credevo Ci fosse Una piattaforma Un Una rientranza Forse mi sbaglio Forse c'è solo Nell'anniversary Chi lo sa Comunque Possiamo risalire Queste piattaforme Senza problemi Bene Come potete vedere Vi parlavo all'inizio Del livello Di due scuole di pensiero La prima scuola di pensiero Era di andare prima qui Perché andando qui Si recupera Un oggetto molto particolare Che può aiutarvi A sconfiggere Più facilmente Il veloci raptor O meglio Il t-rex Scusate Però ho preferito Risparmiarmelo Per non sprecare Munizioni Ok Andiamo di qua Qui non ci sono nemici La parte complessa È finita Qui adesso Ci sono soltanto Piattaforme Qui conviene fare Il salto normale Perché C'è una rientranza Che potrebbe farvi cadere Ok E anche qui Non faccio lo stesso errore Di prima Tadà Bravissima Lara Ok Ci sono varie zone Ma È abbastanza lineare Questa zona Ok Ora qui non ricordo Se non sbaglio C'è una zona Che si può ottenere Soltanto Prima di aver Posizionato Gli ingranaggi Quindi ci sarò Molto attento Come potete vedere C'è un ponte Con degli ingranaggi E Nient'altro Ok Vediamo un po' Dove si trova la diga Si trova di là Ok Ok se adesso Cade in acqua Succede il patatrack Facciamo un bel salvataggio Devo stare attento A non fare i salvataggi Mentre cammino Altrimenti succede Veramente il super patatrack Ok Bene Di qua C'è un oggetto segreto Che ho Missato Miseribili Miseribili Miseramente Ok Ragazzi Una nuova arma Ta ta Si tratta Del fucile Abbiamo 10 Golpi di fucile Ottenuti Nei vari episodi E non li ho voluti Sprecare con il T-Rex Ora qui Questa zona Si può percorrere Anche Con l'acqua Però 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 Secondo me Senza acqua Si ottiene più facilmente Il segreto Vediamo se ricordo bene Ok Ah no Quindi il segreto è per forza con l'acqua Interessante Bene Ricordavo male Credevo che c'erano degli oggetti che si potevano prendere Senza l'acqua E invece con l'acqua Venivano persi Perché giustamente non si poteva più Raggiungere un determinato punto Ok Bene Direi quindi di attivare Gli ingranaggi Così che possiamo prendere gli ultimi due segreti Credo Ok Per cui gli ingranaggi che abbiamo ottenuto Li mettiamo qui Ingranaggio numero Oh no Ingranaggio numero Due E Ingranaggio numero Tre Bene Dopo aver messo tutti gli ingranaggi Usiamo la leva Perfetto Dopo aver usato la leva Come potete vedere La diga si è spostata Se prima usavamo la Cadevamo in acqua Andavamo a finire nella Nella cascata Semplicemente Invece qui adesso Si può nuotare E se non sbaglio Qui c'è il primo segreto Della cascata Della cascata Esatto Questo segreto si può raggiungere anche Con l'acqua in movimento Però È un po' più complesso È più facile da raggiungere così E c'è un grande medipack Che fa sempre comodo Ok Rituffiamoci in acqua E mettiamoci qua Ok Come potete vedere Si può raggiungere facilmente Anche il fucile Dovremmo fare Tutta quella zona Che ho fatto Senza acqua Con l'acqua E conviene farla Il più vicino possibile All'orlo Perché Come potete vedere È abbastanza lunghetta Come Come corridoio È un lunghetto Abbastanza lungo Il corridoio è abbastanza lungo Scusate E quindi sì Conviene avere tutta l'energia possibile Nel respiro di Lara Ok Quindi intanto Lara si incarta Però Vabbè ce la si fa Perfetto È segreto Credo sia l'ultimo Ci sono delle munizioni qui Come potete vedere Di fronte abbiamo un medipack E di là ci sono altre munizioni Ottimo Se volete sapere come faccio a fare Queste telecamerate Queste piccole inquadrature Le faccio con il tasto di visualizzazione Ok Che nel mio caso In generale Il tasto 0 Bene Di qui si può scendere Perfetto Ok Qui non ci dovrebbe essere nient'altro Bene Spero de qui Da qui si può fare Un bel tuffo Faccio un bel salvataggio Vediamo se si può fare Sì Boom Ok Credo non ci sia niente Per sicurezza Controllo la bussola L'importante è prendere tutti i segreti Ora come potete dire non c'è più la cascata E possiamo proseguire la nostra avventura Si prosegue La porta si chiude E la Vallée Perdue è conclusa Uccisioni 13 su 13 Oggetti 16 su 16 E segreti 5 su 5 Ottimo E ci troviamo nel prossimo livello Sempre con la stessa musichetta Il prossimo livello salviamo Si tratta di La Tomb De Qualopec Ottimo Bene ci vediamo nel prossimo livello di Tomb Raider Non mancate